Bella regà, sono ancora una volta in ritardo di un giorno, però cosa buona se mi seguite in generale a me come persona Dovrei caricare un altro video questa settimana, ovvero come già detto per ogni giorno di ritardo per il TG Hype Caricherò almeno un video in più alla settimana Quindi se mi seguite a me come persona e vi piacciono i miei video in generale sarete contenti Se seguite solo TG Hype, mi scuse, se siete nuovi sul canale vi potete iscrivere perché sapete che già almeno un altro video questa settimana uscirà In ogni caso vi ricordo di passare al mio Instagram, che madonna quanto è bianca, io di solito filmo che ho la luce del sole e la luce della lampada Che dà un effetto un po' più acceso, comunque è più bello se lo faccio così, sembra un cazzo di cadavere Però adesso c'è il diluvio universale, quindi il tempo fa cagare e devo usare solo la lampada In ogni caso cominciamo subito Instagram, pippo a negozio, se mi volete bene passate, io vi voglio bene se mi andate a seguire, bastardi La prima notizia riguarda Palace, ovvero l'apertura di un nuovo negozio a Tokyo Il negozio verrà aperto il 3 novembre e ci potrete andare tranquillamente, se mi seguite da Tokyo vi voglio bene Altre due note simpatiche sempre riguardo Palace La persona che ha sponsorizzato l'apertura di questo negozio, John A. Hill, ha fatto un video carino sempre con Palace Per presentare ovviamente l'apertura di questo negozio, guardatelo, dura tipo un minuto È uno sfottone simpatico Mentre un'altra notizia riguarda la collaborazione fra Palace e Ralph Lauren che diventa sempre più presente Oltre ai cartelloni pubblicati in mezzo a tutte le città europee, asiatiche, americane più importanti Adesso Palace ha pubblicato anche un video cortissimo sul suo profino Instagram Che se volete potete andare a vedere, dove si vede semplicemente un cristiano a cavallo Quindi manca veramente pochissimo alla release di questa collezione Rego, mi stiamo scordando una cosa Sono passato su striscia la notizia e lasciando stare che sono passato per tre secondi Quindi non è quello che mi interessa fondamentalmente Ma pensare che qualcuno a Mediaset è stato pagato per vedere un mio video Tagliarlo, scaricarlo e metterlo nel programma della serata Mi fa veramente piacere addosso da ridere Soprattutto se penso che sono passato due o tre minuti dopo Ezio Greggio che ha parlato Ti voglio bene, abitiamo anche nella stessa città Quindi se vuoi ci chiamiamo, ci vediamo, ci mettiamo d'accordo, facciamo qualcosa insieme, una collaborazione Fatemi sapere qua sotto se volete un video con Ezio Greggio che tanto è mio zio Le Easy Sesam che sono soltanto l'ennesima variazione di colore leggera delle Easy 350 V2 usciranno il 23 novembre Lo so che adesso siete più tranquilli, potete dormire più sereni Niente, sono delle scarpe del cazzo, 220 dollari, sarà più facile prendere, bla 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 bla, sono easy Oh, notizia geniale, ok, a me quando fanno queste trovate qua mi fanno piegare Poi non si sa mai se sono vere o meno, però spaccano Io ne le le, non so se avete seguito, vi ne ho già parlato, non mi ricordo se settimana scorsa o due settimane fa Stanno lavorando alla creazione di una nuova Jordan 1 in uno stile un po' retro, veramente figa E cosa hanno fatto? Perché gli eventi sono messi in un mercatino dell'usa È una fiera gigante, avevano una specie di baracchino dove vendevano scarpe usate, vestiti usati E fra le varie robe hanno messo queste scarpe qua E tutti dicevano, no, fake non è possibile, bla 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 bla, un sacco di gente che trattava Cioè, video geniale, ci sono anche Sean Waters, quella fregna di Emily Holberg Quindi se volete andare, il video ve lo lascio qua sotto nella pagina di Apebeast Passateci e ditemi cosa ne pensate C'è stato un po' di scandalo per la, penso, quarantacinquesima volta Mi piace un da tutto a fare C'è stato uno scandalo praticamente per la quarantacinquesima volta Grazie all'applicazione sneakers di Nike Cosa hanno fatto questa volta? Semplicemente al rilascio delle blazer queen, praticamente quelle tutte colorate di Serena Williams Cosa è successo? Se uno aveva l'iPhone non poteva acquistare praticamente Avevano un problema con lo scratch, bisognava riloggarsi Diciamo che era una roba che ci mettevi almeno due o tre minuti a fare E quindi nessuno è riuscito a prendere queste scarpe Tranne gli utenti Android che stanno festeggiando Quindi questa qui è la migliesima volta che sneakers ha dei problemi Per favore cercate di risolverli Perché spesso questi problemi capitano nelle release più importanti Il 28 novembre usciranno delle nuove scarpe Nuove, cioè Sono delle Zoomfly La 45esima colorway diversa Delle Zoomfly in collaborazione con Off-White Una colorway nera, super classica e una colorway rosa fashion, rosa shocking Non classicissima per un cazzo Che però mi ricordano molto le Nike con dei garzoni che mi sono uscite qualche mese fa Niente, semplicemente questo modello di scarpe è carino Non mi fa impazzire, sembrano super comode Se dovessi prendere una prendere quelle nere ma in realtà non prenderei manco quelle Parte 2 della collaborazione fra Uniqlo, Echoes e Sesame Street Che spacca, raga Che ve lo dico a fare Uniqlo si diventano veramente il mio brand preferito Non costa un cazzo la roba, hanno una qualità della madonna E la roba che fanno, i disegni che fanno spacca Ma soprattutto in questa collaborazione Che oltre a magliette, felpe, pezzi che adesso state vedendo Usciranno tutti i vari peluche di Sesame Street Io penso che prenderò quello di Elmo, quello di Cookie Monster Che sono i miei due personali preferiti Anche quelli più iconici Quindi niente, fatemi sapere se voi prenderete qualcosa Parliamo ancora di una release di scarpe Questa volta vi sto parlando delle Vans, Old School Ha e quello che volete In collaborazione con NASA Che usciranno il 2 novembre Sinceramente già sapete cosa ne piace di queste scarpe Non le prenderei mai Non mi fanno impazzire Però sono carine C'è l'idea dietro è carina Se voi volete prenderle fatemelo sapere qua sotto nei commenti Nuova collaborazione di KIT Questa volta con ISPAC Cosa hanno fatto? Niente, semplicemente un borsone carino Che costa una sfracca di soldi Ma che solite potete andare a acquistare su KIT A me sincero sta roba piace Però non spenderei mai quant'è Tipo 300 dollari Costa tipo 300 dollari il borsone Il marsupio è figo Boh Comunque è ancora disponibile sul sito KIT Se volete andare Quindi se volete acquistare qualcosa Fatelo Mi sembrava molto ricchione a fare Parliamo adesso delle scarpe più iconiche degli ultimi anni Ma proprio vi sto parlando Un'icona importantissima Ovvero delle Nike SB In collaborazione con Diamond Il primo modello è stato uno dei modelli più rari Ricercati degli ultimi Cioè all'inizio era proprio una roba fuori di testa Adesso i prezzi sono scesi veramente tanto Ma perché è sceso l'hype di brutto per il Nike SB E quindi diciamo che c'era anche da aspettarselo Però adesso uscirà un secondo modello Questa volta bianco Con lo swoosh rimovibile Niente Questa foto è stata mostrata proprio dal creatore di Diamond Quindi diciamo che è una fonte abbastanza attendibile Però non sappiamo ancora quando verranno rilasciate Quindi iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati Rimanendo in tema Giappone Vans Cose Già che abbiamo già visto prima Parliamo della collaborazione fra Vans e con De Garçon Queste scarpe fanno schifo Sono delle Vans autentiche Con questo print CDG 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 Per l'ha scritto una grossa sopra CDG Che non mi dicono veramente niente Mi sembrano fatte velocemente Senza idee In ogni caso sono uscite mi pare due giorni fa Ma solo in Giappone Però se volete acquistare Si può sempre fare attraverso Bump Grail Goat Quindi sapete già come acquistare Parliamo adesso di una scarpa ganzissima Vi sto parlando delle Nike Air Max 95 In collaborazione con Cara Sono fighe Perché riprendono proprio due cose classiche Di questi due brand Vi sto parlando delle Air Max 95 Quelle sneaker classiche 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 proprio di Nike Che spaccano Con i caratteri distintivi di Cara Vi sto parlando ovviamente del colore camo Vi sto parlando dell'arancione Del tipo dei materiali in cordura Veramente si vede che sono le scarpe di Nike In collaborazione con Cara Anche per il cazzo di logo gigante Messo sull'etichetta di Cara Per ora della release Non si sa un cazzo Dovrebbero uscire a ottobre Ma mi sembra veramente short come tempo Per dire che dovrebbe uscire Tipo domani Dopodomani Non ha senso Quindi penso che usciranno più lei in ottobre In ogni caso Iscrivetevi Per terminare questo episodio Che praticamente sarà Penso l'ultimo prima di Halloween Non penso sia l'ultimo episodio Prima di Halloween Ma sarà l'ultima No scusatemi Non penso che sarà l'ultimo video Prima di Halloween Ma sarà l'ultimo episodio di TJ Prima di Halloween Chiudiamo per questa spooky season Con le Nike Air Force One Skeleton Che usciranno Skeleton Skeleton Che comunque usciranno il 31 ottobre Sul sito Nike Se dovete acquistare A 130 euro Secondo me 130 euro Una follia Per delle Air Force One bianche Semplicemente un po' più spooky Però è la spooky season È spooktober Dovete farlo Ragazzi Siete arrivati alla fine del video Vi voglio bene Siete i miei fratellini Iscrivete al canale Mettete mi piace Fate quello che volete Ma se lo fate A me mi fate piacere E mi fate ancora più piacere Se passate dal mio Instagram Che allora È semplicissimo Clicchi like Clicchi iscriviti Clicchi a Instagram È uno sotto l'altro Quindi fatelo Ci mettete un secondo In ogni caso Basta San Marzo Vi voglio bene Fratellini Blablabla